questo è l'alveare più gigante di roblox e questo qua è l'uomo più forzuto di roblox ma che ti sei mangiato quattro peppe porchette saltate in padella ragazzi ciao 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 a allora è finita male operi dai appena iniziato già finita male del tempo un attimo ok benvenuti subì c'è chiun è praticamente un c'è chiun dove la gente mi vuole morto aiuto aiuto c'è un tizio che si è preso gli steroidi che mi vuole ammazzare aiuto aiuto con calma con calma ok tocca per reclamare ok allora pingu oggi andremo a creare il nostro alveare ragazzi creiamo il nostro alveare in questo momento siamo in live è uno pompato assai che è andato in palestra si è sollevato 50 kg di camion che poco però mi ha appena ucciso però fa niente ok questo tai chiun è bellissimo perché oltre ad essere il re la regina delle api saremo ma molto di più saremo molto di più una cosa una pazzesca il re dei pinguini che a livelli altissimi ma proprio c'è un tasto che si chiama prestige che cos'è prestige quando il tuo prestigio il tuo tycoon sarà resettato e tu ricominciare da capo facendo il per due di soldi a ok quindi quindi sto prestigio fratello ciao e ma sei vestito con me dino ciao dinosauro ciao dino ciao dino come ti va la vita devo startare il mio tycoon tino e senti facciamo una cosa dino facciamo questa cosa aspetta ho preso zero soldi beh è questa una una avanzata colossale ok saluta tutta la persona che sta nel live proviamo a fare questo tycoon pronti partenza primo dropper ma come ma a no vabbè all'inizio devo farlo io ma sei serio così in continuazione aspetta un attimo togli sta musica e che fa giung giung ciao a tutti ok sto mettendo sto mettendo tu ma che cosa sono questi effettivamente no sono i cereali della mia pops a palline ragazzi sono 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 palline il prestigio è un re bird però io non lo faccio perché manca luci lean ok 100 100 primo dropper wow ragazzi questa è la fabbrica di palline della mia il pops questa è la fabbrica di generale guardate queste sono le polline al viene un cirio a pingui piacciono i cirio però io vorrei fare una cosa vorrei creare i miei cereali li chiamerò pingu pops e i pingu pops che scoppiettano insieme a gabbi ciao ragazzi ciao a tutti quelli che sta nel live attenzione sto facendo più possibile non so quanto siamo arrivati ma posso fare l'autoclicker grazie che non è che posso stare qua con le cinque secondi a cliccare no ok ho costruito l'altro a allora facciamo così signori autoclicker menu che cosa si ha posso salvare il take un posso spendere soldi giusta me giustamente posso redimere i codici le persone che mi già mi saltano attorno aiuto che cosa ho fatto comprato un muro beh questo questo è bello e poi che cos'altro posso fare però non mi no non mi dino non mi saltare dino 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 ehi ti devo fare estinguere eh ti devo fare estinguere tu che sei istinto dino dino eh ok 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 sto facendo ancora di più denari sto facendo ancora di più denari allora upgrade posso upgradare extra prestige con wire speed walk speed più soldi eh oh vanno da soli vanno da soli ok ok vanno da soli ragazzi vanno da soli allora questo mi serve per fare più veloce però intanto va da sole non c'è non c'è problema tutto risolvuto la mappa si chiama ragazzi b i tycoon che non b scritto b i i b e e e e con la e bebe o ma c'è qualcuno che ha già compreso ma quella cosa enorme o mamma mia con tutte le api che ci sono dentro quelle là è la mia concorrenza quelle la pingu hanno il monopolio dei cereali quelle là porca miseria se vai all'edicolo non solo ti compri cereali ma ti compri anche le figurine con le api i diversi tipi di api non possiamo pingu non possiamo rimanere così indietro dobbiamo comprare più dropper perché queste palline al miele devono fruttare ok non sono dei frutti però devono fruttare de nero de nero compro ancora dropper abbastanza soldi 22 dollari ci sta ci o ecco finalmente che bello quando le cose vanno da sole a questo è il tec un per i pigri no e sono bruttissimi tec un dove ti devi mettere la schiacciare sono molto brutti bene o male che perché la mia pigrizia ne risente soprattutto quella di pingu c'è il secondo nome di pingu è pingurizia scusate 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 no scusate scusate non uccidetevi e non volevo fare sta battuta ignobile però l'ho fatto allora siamo mille mille di già oh comprate il primo livello bentista maia è l'ape scusate è l'ape giustamente non poteva essere altro ciao ragazzi devo comprare un altro dropper finalmente siamo a 2000 ma ditemi un attimo io posso comprare anche le armi ciò vuol dire che posso pungere posso prendere col pungiglione e scaramentarlo da qualche parte allora è quello che farò la prossima cosa che farò è farmi crescere un pungiglione dalle cappe ma che cosa è questa ah no ho lasciato l'etichetta peccato i pantaloni sono nuovi dovete capire ho lasciato l'etichetta l'ho lasciata vabbè è comunque molto bella sta etichetta cioè questa qua se passo se passo da questi qua e così di sicurezza suonano ok ma ho intenzione di mettere un po di musica perché così è ancora meglio ok metto un po di musica perché ciò che dobbiamo fare è molto bello ovvero più dropper guardate la mia fabbrica di cereali come sta andando avanti eh questa sì che è una fabbrica di cereali io proprio sto costruendo un impero eh sì ma voi siete le mie api io sono la vostra regina voi siete le mie api soldato dai mostrate le chiappe fatemi vedere i pungiglioni no tu non è il pungiglione mi dispiace non potrei essere un ape dino mi dispiace vuoi non mi guardare così dino non essere triste se vuoi la faccio uscire io il pungiglione dino mi dispiace non volevo offenderti in questo modo ok adesso c'ho le barriere così se le formiche ci vogliono invadere non possono oh ecco una formica una formica si sta invadendo mi dispiace formi le formiche sono diventate intelligenti no non va bene questo non va bene devo costruire il secondo piano questi mi invadono aspetta ci sono le formiche che mi invadono noi api conquisteremo il mondo belli quegli occhiali bellissimi ok siamo a 6.000 6.500 ancora di più altri dropper si mega dropper uh e vabbè ma questo non è un altro mega dropper un altro mega dropper del mega dropper stiamo esplodendo di dropper ok vai altre 700 1.500 ok 1.500 ci siamo ci siamo intanto metto un'altra musica così yeah allora ciao francesco francesco la vgf allora francesco senti esercito di api e vabbè quanti api eh scusate ragazzi ma c'è io non posso ragazzi non non posso saziarvi tutti lo sapete che volete mangiare cereali però al momento siamo poveri ok al momento siamo poveri ma non vi preoccupate diventiamo ricchi perché siamo a 3079 e il nostro scopo è quello di evitare che le api ci invadano ma abbiamo un'arma cioè possiamo creare la aspetta un attimo esco fuori ma posso morire da me stesso no ok ok allora andiamo in giro per la mappa uoi che bella quella mamma mia che pungiglione cioè ma che cosa c'è al posto del eh il pungiglione enorme eh mi scusi ma lei ha dovuto soffrire molto con quel coso dalla nascita no ragazzi no 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 posso colpire sti cosi escono da pivere no peccato e vabbè i 20.000 lo colpite allora visto che voglio vedere se c'è la zona VIP ci deve essere una zona VIP da qualche parte e in questo momento io sono mmm non ci sono come non ci sono com'è possibile che io non ci sia uffi ok non vedo zone VIP però però ci sono armi perché quello là di primo mi ha ucciso purtroppo eh no no scusa ho sbagliato Tycoon non è il mio scu mi scusi signori andiamo a vedere la concorrenza perché dobbiamo capire le ricette segrete che c'hanno no signora signorina mi dica la ricetta segreta allora cerchiamo di cerchiamo di guardare bene queste ricette segrete ragazzi io me le guardo le ricette segrete non mi interessa così piano piano mmm vedo che oltre al miele mette una sana dose di zucchero mmm ok che il miele è zuccherato ma qua mette anche lo zucchero mmm eh no guardate la velocità guardate assunto Sonic assunto Sonic come ape no ragazzi io non potrei arrivare mai a questi livelli e quindi devo rubare qualcosa devo rubare devo rubare la ricetta segreta vediamo dimmi dimmi che cosa c'è mmm ce ne sono talmente tanti talmente tante veloce ho capito la ricetta segreta lo so qual è aspetta un attimo che ora lo faccio ora lo faccio eeeh la ricetta segreta lo so qual è ragazzi preparatevi la ricetta segreta eh aspetta aspetta ecco la ricetta segreta è il peperoncino non c'è nessun altro motivo per cui le cose vanno avanti così e quindi visto che è il peperoncino grazie per l'abbonamento intanto eeeh ne verse grazie per l'abbonamento intanto visto che è il peperoncino allora ho deciso di mettere il peperoncino nei miei cirios quindi vai dov'è il mio teacune così ci vado subito ok sto arrivando casa mia è povera casa mia ecco la casa mia è proprio quella lì e no no non è la serie della minecraft medievale è quella lì però ci siamo voi api lavoratrici state lavorando ho capito la pigrizia però fino ad un certo punto la pigrizia lavora pingudini lavorare pingudini lavorare pingudini lavorare ok ok quanti sono le mio 16.000 16.000 ok posso comprare il secondo piano ma a me interessano i dropper che sono quelli che danno di più quindi buy mega dropper altro mega dropper vediamo cosa mi rimane 4.500 per un altro mega dropper ma qua si va a livelli assurdi 4.500 oh giusti giusti oh guardate ragazzi stanno andando più veloci io ho messo il peperoncino a quelle api no non tezzardare a mangiare oh hey oh non mangiare il miele non mangiare il mio miele ma no aspetta eh questa cosa non è cosa ehi signore ahhh no sta soffrendo se la sta prendendo male che ti sta succedendo aiuto aiuto no gli ha incastrato la testa devo salire al piano di sopra devo sbloccarlo aspetta devo sbloccarlo come faccia se la piano di sopra compro le scale 10.000 per le scale puoi aspettare 2.000 mi ha fatto un buco al soffitto oh mi ha bucato il soffitto ma imbecille oh e io e io ti ho levato e tu mi buchi il soffitto era qua era qua non c'è più pingu dov'è dov'è finito ahhh non c'è più mi ha bucato il soffitto non doveva farlo ahhh non doveva non doveva vabbè eh tu tu lurido che cosa hai fatto perché è bucato il soffitto ma me lo paghi tu eh questo ha pagato con la vita anzi no non ha pagato con la vita ha pagato con la visa meglio meglio ecco ehhh perché dovevo fare queste cose non lo so mi sto divertendo un sacco a fare queste cose la visa è una carta di credito per chi non lo sapesse allora sono a 21.000 e siamo a un quarto d'ora quindi ad un quarto d'ora 15 minuti siamo ad una bella cifra una bella cifra sostanziosa quindi me la mangio e faccio le scale e faccio le scale non solo le scale ragazzi intanto saluto ciao Matteo ciao Claudio Baldoni grazie ecco mi deve risarcire i danni compro l'altro mega dropper vado a comprare aia e oh basta mangiare i cereali poi che cosa ah qua ho fatto tutto ho fatto tutto compro le lampade ho fatto tutto qua il primo piano l'ho fatto ragazzi e vai no no per poco per un pugno di dollari no per un pugno di dollari e qua questa è l'ultima cosa credo sia l'ultima cosa a meno che non a meno che non mi dica che ci siano altre cose sopra il primo piano cioè il piano terra l'ho completato e la smettete di fare aspetta aspetta quanto lo devo fare eh la smettete di allenarvi la smettete di allenarvi ragazzi eh mi alleno io mi alleno io yee yee blocca se non mi mette il copyright uno deve avere pure paura a mettere la musica su youtube che youtube ti blocca il video cioè è la cosa più bella che possa esistere ehm perciò ritorniamo a fare le persone gentili no scusa scusa un attimo scusa un attimo ecco allora visto che siamo a 10.000 credo che compra decorazioni del muro che cosa che cos'è la decorazione del muro cos'è la decorazione del muro io cioè ragazzi bau pablo picasso muah leonardo da vinci michelangelo che è più riacchile vette che ha fatto sta decorazione questo è stato io sono siccome sono re e regine io sono magnate e perciò mi magno mi magno gli artisti e gli artisti le api artisti che fanno è arte contemporanea dovete capirlo beh sei stato tu l'artista dino beh dai dai smetti di fare smetti di fare quadri della preistoria dino dai non mi puoi far questo non puoi farmi questo vabbè ok visto che ci siamo il primo piano l'ho completato per completarlo dovevo fare la la decorazione spaziale dino complimenti per la sua decorazione me ne vado sopra adesso ok ora questa dovrebbe dovrebbe esserci le armi le armi sì ma le armi dove sono le armi dove il mio pungiglione ha puntito dove il mio pungiglione ha puntito no peccato non c'è aspetta c'è da qualche parte no ne sono sicuro che c'è da qualche parte perché se no non ha senso come faccio a proteggermi dall'attacco delle cavallette come come fa la smettete di fare tapirularne no c'è c'è il buco qua ah ecco a che serve il buco vabbè vabbè lo potevi dire 8000 compre le mura e vabbè qualcuno le attacca le mura dai stiamo alzando stiamo alzando la posta in gioco le formiche non ci faranno niente siete solo degli insetti dei pezzi di insetti poveri io sono più ricco io ho 2050 ma i token cosa sono fammi capire allora adesso vado nel menu ragazzi ciao siamo alilou ciao alexandru vado nel menu upgrade no che cosa sono i token cosa ah i token è questo no non confermo niente non confermo niente non lo faccio completerò il mio taekun così lo completerò non mi interessa lo completerò così e visto che ci sono rimettiamo una bella casogera yeee allora signori andiamo da no che cosa ingrata ebbè la spada no ok sono ancora vivo c'è ancora il mio taekun ma quella là oh no 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 questa non mi va non mi va giù non mi va no non ci provare aiuto aiuto una ragazza è armata d'ascia aiuto salta salta pingu salta salta scappate tutti dentro api tutti dentro tutti dentro no uomo uomo entra dentro ti prego ti puoi salvare bravo bravo beh sei messo in salvo sei messo in salvo non puoi farmi questo aia mi ha fatto male mi ha fatto male da dove è saltata fuori quella spada tu sei una farmica soldato eh scusate ma come ha fatto cioè com'è morto ragazzi com'è 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 mi è finita male mi è finita malissimo c'è quella là debora scappa scappa dentro scappa dentro bravo bravo figliolo bravo figliolo ok quella là sta impazzendo e perciò dobbiamo cercare di eh distruggerla ti distruggo guarda guarda mmm mmm miss debocata c'ha 9000 c'è no 9000 15 ragazzi questa qua ha tutto praticamente praticamente allora quello che dobbiamo fare noi oltre che comprare tropper e prendere le armi ci dovrebbero essere le armi da qualche parte spero di prenderle presto spero di prenderle perché questa qua sta oh sta ma una piccola formica contro mille api eh ma dove le avete lasciate i pugilioni dove le avete messi nel cassetto nel comodino eh vi fa proprio comodo no non ti putta ah devo comprare le finestre se no qua qualcuno si fa male aspetta no qualcuno qua si fa male qualcuno qua si fa male compro le finestre compro le finestre tiè no ahia ok ho comprato le finestre così nessuno si fa male ok almeno questo eh almeno questo ragazzi va bene allora ci troviamo in un momento in cui devo spendere dei soldi per visto che sono il re no devo assolutamente proteggere il mio alveare dagli attacchi clandestini dagli attacchi di quella dagli attacchi di quella di quella formica impazzita è stata 150.000 per il terzo piano tu hai troppo dalla mia vita non ho tutti quei soldi ancora non compro le mie cereali ragazzi lasciate un like e iscrivetevi se volete i miei cereali ora ragazzi se non siete ancora iscritti iscrivetevi e lasciate like datemi i vostri cereali forza confide in voi in tutto quello che mi potete dare lasciate like ora like e più cereali guarda vediamo quanti vediamo quanti stanno arrivando eh vabbè eh vabbè con che velocità è una specie di cioè questo lo devo fare è una specie di esatto è un deja vu è un deja vu è tutto un deja vu guardalo guardalo lui come fa guardalo lui come fa guardalo guardalo là pronto? pronti? eeeh yes 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 stanno impazzendo stanno impazzendo ragazzi in una maniera incredibile io mi sto divertendo un sacco a fare sta cosa ciao super gigi simonetti ciao martina argillate ciao si può sapere cosa state facendo perché fate la corsa eh non do 22.000 wow un sacco allora è più semplice allora facciamo così prendiamo questo ok mi dovrebbe dare leggermente di più cioè in due secondi riesco a fare tutto ma quella quella là c'è più? no no c'è no c'è c'è ancora dov'è? è quella? è quella davanti? no 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 questa richiede una vendetta cioè io non mi scollegherò da questo server finché non prenderò una spada e i buttero giù quell'alveare e poi lo brucio con un lanciafiamme pingo dobbiamo bruciare l'alveare di quella tizia con un lanciafiamme dobbiamo eliminare la concorrenza no scherzo 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 mi dissocio mi dissocio hai cercato di rupermi i soldi eh ok 23.000 quasi quello là è 25 25 ci siamo quasi a 25 ci siamo quasi vai 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 28 ce l'ho ce l'ho vai sopra vai sopra oh 1 mamma mia hyper dropper ma quanto è grosso l'hyper dropper sarà grossissimo questa è l'ultima stanza dei dropper perché poi ci sono tipo le altre stanze allora sono pronto 11.000 voglio vedere una cosa menu ah posso salvare il tech ho salvato eh no 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 troppo costo non troppo ciao ragazzi allora apro apro a tutti il passaggio signor bacon può entrare prego prego bacon prego guarda ho aperto potete entrare dai si dai così siete tutti bravi carini e coccolosi molto molto carini e coccolosi proteggete bravi così bodyguard uno qua e uno qua mi raccoma mettete uno qua e uno qua bodyguard fate così ok mettetevi come potete bravi proteggete l'alveare proteggete l'alveare ragazzi bodyguard forza oh perché cosa vi paga a fare se ti ho detto mettiti qua mettiti qua perché cosa vi sto pagando a fare vi spendete soldi e nessuno si mette là ciao elisa recupero adesso recuperiamo tutto elisa adesso recuperiamo tutto ok pronti ma se io vi dico ma se io vi dico ecco bravo ecco lì kingo youtube kingo allora facciamo così kingo youtube migliore di tutti guardate che si mette a guardia della porta questo franci con la sua spadone così si fa 25 ce l'ho credo che il dropper costa 25 vediamo 30 ma tu sei tutto loco tu sei passo passo tu sei passo passo ma ci siamo 30 30 non ci riusciano mai a completare questo tycoon in vita mia però uno ci tenta ci prova nute aiuto mi sposa la corda vocale ciao il miglior gamer c'è proprio il miglior gamer wow 10 queste si guardate ci hanno pure queste si che sono guardie del corpo ragazzi queste si che ci sono guardie del corpo guardate queste guardate guardate bravi ragazzi bravissimi queste si che sono guardie del corpo così vi voglio così allora ok faccio questa guarda guarda oh adesso si che ci siamo adesso si che ci siamo 20 37 mila non ti preoccupate non vi preoccupate che io la canzone della permaia tra poco la metto ah c'è è la tuta nina ruto naruto naruto ok basta scusate non è la mia intenzione ok non rimetto non rimetto e così uno va tranquillo dovevo farla la parte di naruto eh cuoricini cuoricini 20 62 mila proprio una bestia allora insiste la porta in che senso ah devo chiudere la porta si si però ecco scusate non volevo non volevo bello naruto comunque non volevo giuro non l'ho fatto apposta non l'ho fatto apposta non era cattiveria era era sano divertimento eccola guarda che ci vuole riattaccare ho fatto bene a chiuderci dentro ho fatto bene ok 44 mila la sta a 60 60 mila papara papapa 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 quasi 60 guardate come sale velocemente guardate bellissimo ma sale troppo velocemente c'è ma c'è quello è fuori quello è fuori no 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 entra 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 dentro entra dentro entra 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 non ci guardare dalla finestra non c'è una che guarda la luce entra entra bravo bravo ok chiudi 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 ah ok riusciamoci tutti qua dentro c'è una tizia armata di ascia che ci vuole tutti i morti ci vuole esterminare noi api ci vuole mettere il ddt con tutta la ddt aiuto aiuto 82 mila mamma mia sempre più ricchi sempre più ricchi eh francesco io ti voglio bene francesco io ti voglio proprio bene francesco guarda lo faccio per te ecco lo faccio lo faccio per te va bene 82 mila mmm hyper hyper dropper hyper upgrade oh prima l'hyper dropper che ovviamente dà di più e poi l'hyper upgrade e questa parte l'abbiamo come sei entrata come sei entrata aiuto aiuto si salvi che può si salvi che può si salvi hai basso l'alveare hai basso l'alveare si salvi che può aiuto aiuto non posso non posso papà papà esci di là c'è ma quella è l'arcobaleno volante oh porcaccia la miseriaccia no c'è l'arcobaleno volante come hai fatto a prendere l'arcobaleno allora questa è una sfida no troppe speed no no ci deve essere qualcosa che mi dà la forza no la walk speed non mi serve la walk speed no non devo comprare niente no mi sei bloccato mi dice di comprare per forza non compro non comprerò mai da te no non compro no no ragazzi mi sono bloccato ok ok non mi sono più bloccato ok ok perfetto togli togli siamo piccoli in confronto a quella che c'è tappeto volante dov'è la mia casa l'ho persa ho perso le chiavi di casa ah eccola ok c'è mancato poco c'è mancato veramente poco poteva finire male ma non è finita male meno male meno male meno male con calma con calma ah sì adesso tranquilli ah così ci mettiamo una musica molto tranquilla mi sento molto rilassato no che basta youtube non mi blocchi nel video per favore per favore ricominciamo no no ce l'abbiamo ancora ovviamente vorrei avvisare ingrata pezza sei una pezza sei una pezza della pezza sei una pecca una peppa pezza scappa scappa a casa a casa a casa ciao ciao a tutti esseri esseri umani quanto saremo diventati ricchi dopo questa chiudi 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 mi sono chiuso no no è salita è salita è sopra è sopra non siamo più al sicuro e infatti e infatti non siamo più al sicuro ragazzi ci sta aspettando e infatti ci ha aspettato non puoi far così 180 mila 180 mila no 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 più veloce 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 eeeh debbo no scappa scappa non sorridere invece il no allo 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 no non mi prendi no non tenso andare ah mi ha preso lo stesso non mi deve prendere mi ha detto e mi ha preso attaccatela attaccatela solo voi ce la potete fare ok ok ce l'ho i soldi 219 mila oh porca miseria cioè mi aspetta là ah flashbang ok ha tirato una flashbang va bene lo stesso va bene 200 mila ok cioè era stato fatto apposta per evitare che io spendessi i miei soldi quanto è cattiva però guarda ancora forte sono 100 mila 100 mila prendo questo tac 117 mila vai così si adesso la mangio la peppa porchetta diventerò molto più forte evian ho sete dopo che ho detto questa parola ho molta sete 125 mila oh aiuto che cos'è che cos'è stato che cos'è stato sono stato accecato dalla maestosità di quella ragazza ma che cosa sto guardando cosa sta ma cosa stanno facendo ma cosa stanno facendo no voglio farlo pure io no voglio farlo pure io basta no fatemi vedere una cosa fatemi vedere no ragazzi non è possibile non è possibile no non uccidere è ucciso no 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 ragazzi c'ha c'ha quello per volare quindi vuol dire che posso prenderlo da qualche parte ed è quello che voglio fare voglio prenderle quella cosa per volare devo capire dov'è mmm dove posso prenderla? dove posso prenderla? perché quella non è completata il tycoon guardate com'è è questa giusto? devo provare devo provare a saltare beh bravo beh aiutami aiutami io sotto tu sopra invadiamola cosa c'è sopra? no non c'ha non c'ha ok ok no guarda come vola upgrade no menu salva no ragazzi voi sapete voi sapete dove trovarla sta cosa che voglio assolutamente no per forza all'ultimo piano per forza all'ultimo non può avere quella cosa non può no io la lascerò fuggete sciocchi no no non su di me non su di me data no no da quella pure con la metragliatrice ma cosa state dicendo data data no data 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 entra 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 no no non mi avrei mai ragazzi fatemi chiudere le porte no gilda aiuto ma qua entrano tutti cosa sta succedendo questo non è divertimento mi stanno distruggendo casa ingrati ingrati pezzi di porchette non potete fare così no l'ha fatta a pezzi no è finito dentro lo scatola di geneali non doveva finire così oh ho comprato le scale ho comprato le scale ho comprato le scale ho comprato le scale ciò vuol dire che è nulla è perduto spero nulla è perduto vediamo mh mh piedistallo 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 no no fatti chiedere amicizia lunga eh se vuoi che l'amicizia dure non venire dai sta facendo una strage delle delle mie apette non può fare una strage delle mie apette dai ancora aspetta aspetta no devo capirlo dove sono le armi dove sono le armi dove sono le armi però where is the arm arm è braccio e io ho scritto where is the arm ah no con questa donna alveare di pingo e lo so ma se non abbiamo armi come facciamo vediamo se c'è ragazzi vediamo se c'è vediamo se c'è quello che dite voi no ragazzi c'è cash e walk speed quindi non lo so che cos'è vediamo prestige non hanno il prestige non ce l'hanno il prestige niente dobbiamo arrivare ai livelli alti del tycoon ho capito ah possiamo rubarle questo è pure vero però non possiamo rubarle così ma poi perché attaccano solo me non posso attaccare altre persone solo me solo me si lo so che ce la posso fare riconquistiamo la base si ma dai ma non è possibile giocare un techno con queste persone bannatele dal gioco bannatele 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 banna tutto banna non possono far così non mi possono prendere no ma bannatela ma dai non è possibile ma dai non è possibile ragazzi tutti sotto bann 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 tutti a dire bann tutti a dire bann vanno bannate vanno bannate guarda ma solo a me stanno invadendo ma che cos'è per l'arburve la seconda guerra mondiale la terza aiuto vabbè 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 oh sono dentro dentro il tycoon ok meno male meno male meno male meno male meno male devo salire piani sopra devo salire piani sopra oh compra muri compra dropper compra pedistallo no no bann bann bravi ragazzi bann così così bann bann dobbiamo bannarle questo dovete bannarle sarò facendo la strage no no è risalita vero no aspetta quello era uno dei nostri perché ha ucciso me oh ma da che parte stai era uno dei nostri ma da che parte sta ma da che parte sta quello mi ha appena ucciso sta andando tutta a scatavascio oh e reportale reportale dove ho preso l'arma quella forse devo fare upgrade walk speed extra prestige no non c'entrò niente il prestige non posso prenderlo ah c'ha pure la molla no 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 non voglio non voglio non voglio sono ancora giovane sono ancora giovane ancora giovane sono e non me lo vogliono dire dove le prendono queste maledette armi però vedo che da là da là come si è salito Ok ok ho capito Ok ho capito dove stanno Ok allora devo soltanto guadagnare i soldi Devo soltanto guadagnare i soldi E la sapete che faccio? Faccio un Per due Così il doppio dei guadagni Per prendere poi le armi Non vi preoccupate E' tutto risolvuto Ora risolvo tutto Ora risolvo tutto Questa è una questione Si Si E' quello che penso io E' quello che penso io eh maledette Ora vi faccio vedere Ora ve lo faccio vedere Se è quello che penso io E' quello che penso io dimmi di si Dimmi di si vai Si Ah 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 Ragazzi Ragazzi ce l'abbiamo Lo sapevo io Lo sapevo io Era come dicevo io Era come dicevo io Si 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 Vendetta 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 Questa è la vendetta E adesso metto la battaglia finale Tra me e queste qui Aspetta aspetta Valla a trovare la battaglia finale Battaglia finale Tra me e queste qui Sì Prendi l'arma Finalmente Ah Ah Venite qua Mi la faccio vogliare io Mi avete Mi avete Ammazzato tutte le api Me le avete Sterminate E ora vi stermino io Vi stermino Mi prendo il bazooka Prendo io il bazooka Vi invado io Ragazzi Ragazzi Venite Oh Il tappeto volante Ragazzi Venite qua Entrate Entrate Esercito Esercito Entrate Entrate Prendete le cose di sopra Armatevi Armatevi fino al bidollo Fino ai denti Forza Armatevi tutti Bravi Così Così Armatevi tutti Bravi Fatemi vedere Sì Sì Così Bravi Armatevi Che adesso vi compro le armi più belle del mondo Ve le armo io le armi 2000 E ancora non è finita Bravi Armatevi così Questa sì che mi piace così Questa sì che mi piace così Di più Di più Di più Di più Di più Di più Bravi così Così vi voglio Cattivi Ma non a me Ma non a me Zuzu Zuzu non a me Zuzu non a me Non c'entro niente io Bravi 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 Armatemi Fine Fine Denti Ok Ok ci siamo Vado a prendere queste armi E vado a farla finita con quelli Pronti Ok bravo tu Bravo così Non colpite ragazzi con le armi Non colpite Mi ammazzate Dove Dove Ammazzare gli altri Allora Uno Due Tre Molla Vai Volare Ma come sto volando Questo Questo volare Guardate C'è un arcobaleno Yeah Arma uno Dove sono quelle Le invado io ora È il mio turno Aspetta aspetta ci devo arrivare È il mio turno Mio turno Ragazzi Bombarda Bombardatele Lo so che ti nascondi qua Lo so che ti nascondi qua Dov'è Non c'è No si deve nascondere qua Bravo vieni con me Eccola Eh ti è piaciuta eh Ora tocca a te Ora tocca a te Eh Chi di spada ferisce Di spada perisce Vai 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 Spawna Ti preparo La tomba Sì Così Ok E questa l'ho fatta Andiamo alla prossima Andiamo alla prossima Risali Vai Vola Ritorniamo adentro Ritorniamo qua Ritorniamo qua No non è qua il mio Non è qua il mio È là È qua Ok ce l'ho Ce l'ho Salto No 400.000 400.000 Come faccio Me ne manca l'ultima ragazzi L'ultima battaglia Eh Cosa vi posso dire Ce l'abbiamo fatta Grazie Giuseppe Condoleo Grazie Eh ma Mi stava per ammazzare dietro Per caso Eh mi avete protetto 300.000 L'ultima arma L'ultima arma Ok l'ultima arma 300.000 400.000 Cosa sarà l'ultima arma La mitraglietta Spero di sì No No Ok Oh Tu chi sei Tu prima mi hai ucciso Tu prima mi hai ucciso Non riesco a ucciderla È invincibile Non è invincibile Ok andiamo da quell'altra Che mi voleva morto Dove sta qua No non è qua Non è qua Dov'è Volo stazionario Per scoprire Non è questa Questo sono io Questa Eccola Stiamo venendo a farti Un pochino visita Eccoti 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 Ora ti vado io L'ho invaduta Ciao creepy Creepy man L'ho invaduta Vai io mi apposto Qua dietro Da dasti Vieni 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 qua Vieni qua Tu qua Non c'entri più Questo è quello Che hai fatto contro di me È quello che faccio io Contro di te Oh Soddisfazione Ragazzi Che Soddisfazione Ciao Stefano Vittori Che soddisfazione Questa È una vittoria Questa sì Che è una vittoria Con i fiocchi Mua Abbiamo Praticamente Vinciuto Contro queste qua Contro queste Da dasti E E E E visto che Ci siamo Ragazzi Io mi ritrovo Quasi alla fine Della live Quasi alla fine Della live Siamo agli ultimi Dieci minuti Ten minutes E perciò Vediamo fin dove Riesco ad arrivare Con questo taikyo Vediamo fin dove Riesco Che è sta luce Esorbitante Ah ok Sei un amico Allora Vediamo fin dove Riesco ad arrivare Con il taikyo Arrivo Morto Ecco Ci siamo Eccomi Quattromila S Quattrocentosettantamila Dove prendere Questo dropper E il secondo piano L'abbiamo completato Ok Quindi Secondo piano Completato Passiamo al piano Di sopra Nuovo piano Fin dove Riesco ad arrivare Fin qua Credo E basta Perché poi Richiede cifre Assurde Centosettanta No 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 Credo di Essere quasi arrivato Ehm Meh C'è nel senso Non posso fare più di tanto Anche se mi da il doppio Ormai questo non da niente Ciao Lalla Sampaio Yeah Ormai sono quasi arrivato Cinque 216 mila Va bene Va bene così Lasciate like ragazzi Per questa Fantastica live Che Mi è piaciuto un sacco No 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 È ritornata È ritornata Prendermi le armi Bravo Bravo Francesco No no Dove cerchi di scappare Dove cerchi di scappare Quella è scappata Va bene Me ne esco fuori dal mondo Vai Ciao È stato bello ragazzi Ciao Me ne va Non me ne posso andare fuori Ma mi metto qua sopra Eccomi Yeah Allora ragazzi Io direi che Posso anche concludere la live qua Che sta iniziando a farsi tardi Abbiamo finito E nulla Spero tantissimo che questa live vi sia piaciuta Qua dal vostro Lois È tutto Saluto quattro persone nella live Ciao Angela Medda Ciao Damiano Rizzo Saluto anche Chi Ha fatto attività Perché c'è gente che ha fatto attività Io non l'ho vista Per esempio Ciao Giuseppe Condoleo Ciao Veronica Nocivelli Ciao Neverse Ciao Exodan Grazie Ragazzi Per questa live è tutto Mi raccomando Lasciate un mega pollice in su Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Ma credo che siete tutti iscritti Nulla Un bacione Mi raccomando domani è scuola Quindi Dovete essere carichi Ciao ragazzi Voi un sacco bene Ciao Spero che vi siete divertiti Ciao Non c'è bisogno di sparare così Per l'alleghiera Però aspetta Eh